Buonasera signore e signori, sono C88, benvenuti con la undicesima parte della Nazlook Challenge quest'oggi ci ritroviamo qua a Flemminia, pronti per andare ad esplorare appunto le rovine nella parte a destra di Flemminia, dopo esploreremo anche l'altra parte della città quindi andiamo a recuperare quel pokeball qua, qua dentro nella casa per ricevere i portabolli ma prima appunto voglio fare le rovine, allora dentro alle rovine possiamo trovare le pietre evolutive qua troviamo la pietra focaia, la pietra tuono e la pietra idrica ovviamente a che cosa ci servono? Uh, Nazlook Challenge, parte la sfida, dobbiamo catturare adesso Ah, un 1 al 24, perfetto Ma andiamo... eh, chi mando? Andiamo a vaniglia, vai Eh, appunto, le pietre evolutive che ci serviranno per far evolvere ipotetici pokemon quindi uno tra tutti che mi viene da pensare è Eevee Eh, però ecco, non ne sono sicuro di quale Eevee riuscirà a prendere Ah, non gli do soprano perché è ganso così Eh, di quale volere di evoluzioni, appunto perché per ora abbiamo quasi tutti i tipi abbiamo un elettro, uno fuoco, uno volante, uno erba ci servirebbe uno acqua, il problema è che facendo evolvere Eevee in Vaporeon ci si metterebbe davvero, davvero tanto prima che impari alcune mosse e dato che MT non ne ho eh, insomma, potrebbe essere un po' disastrosa come cosa quindi adesso ci devo un po' pensare e, ecco, valutare nelle prossime parti perfetto, questo è un Geodude infatti mi ricordavo che questo aveva questi pokemon qua oramai, dopo un po' che ci giochi, ecco, alcuni te le ricordi un altro Geodude sempre con pugno rapido questo ha più difesa però, eh vediamo se riesco uh, per fortuna è stato mosse del genere vai, usa lucidatura e poi andrebbe, ecco, infatti, un bronzer usiamo gli ruota fuoco perfetto, ah, stor di raggio dai, dai, farina, attaccalo no, dai no, dai dai, sì bene ok, perfetto vi è anche questo e adesso posso usare anche un repellente tanto a questo punto non appariranno altri pokemon al di fuori di Anun e non ho voglia di stare qua a scappare eeeh ho visto che la parte di Black Ops del video che, appunto, avevo caricato non ha riscontrato particolari successi spero vi piacesse di più vabbè, come detto, la qualità non è quella che è però ecco, magari mh, potrei anche diversificare invece che fare eh, Black Ops mi hanno detto che mi presteranno GTA eh, cinque quindi magari potrei farvi vedere anche quello ovviamente registrare le missioni sarebbe un po' lungo e tra l'altro non saprei da che parte farmi perché eh, penso che la Fion mi esploderebbe una missione tipo è quasi 20 minuti ecco però, insomma eh ci potrei pensare magari di registrare mentre faccio casini eh nella città oh, perfetto abbiamo tutte e tre le pietre presumo di sì fammi vedere un po' tuono eh, focaia edrica perfetto a questo punto possiamo utilizzare una fune di fuga che non ho voglia di stare qua a girellare e possiamo andare a recuperare qualche strumento utile prima di lasciare appunto Fleminia mhm un'altra cosa che vi volevo dire è che mi sono messo nella ricerca delle ROM di Pokémon X e Pokémon Y ovviamente ho visto qualche gameplay di Maryland il ragazzo quello inglese americano quello che è insomma eh perché appunto è stato il primo a creare e a iniziare la guida su Pokémon X e devo dire che è veramente fantastico non pensavo veramente all'inizio sapevate che ero contrario a fare una nuova edizione e sapevate quanto mi sarebbe dispiaciuto appunto vedere un'altra generazione cambiamento eccetera eccetera invece vi devo dire che eh mi sta piacendo molto è molto bello è ben fatto la grafica è nuova divertente e e che coinvolge molto l'allenatore quindi sono cambiate un po' di cose insomma è un bel gioco ora la maggior parte di loro ha ricevuto hanno rotto il day one quindi ecco ovviamente ce l'hanno avuto in precedenza e quindi hanno iniziato già a fare la guida ma non è una guida come tipo possono essere che ne so questa o su rom normali in realtà è una guida fatta e registrata con aspettate che devo prendere un po' di cose una guida appunto registrata con una specie di game capture per il nintendo credo che si chiama appunto nintendo game capture e quindi io non ce l'ho questa nintendo game capture non ho il nintendo 3ds e non ho pokemon x e barra pokemon y quindi non saprei come fare per registrare appunto le parti e tra l'altro le rom ancora non si trovano non esiste a meno quanto so un emulatore per il nintendo 3ds e non esiste appunto un una rom ancora certificato comunque sia al verso di pokemon x e pokemon y ho cercato in vari siti inglesi ho cercato di quali di là ma non la trovo non riesco a trovare niente che almeno mi diano un indizio ho visto su qualche forum italiano che c'è qualcuno che probabilmente ha detto si noi la metteremo ma il problema non è metterla il problema a parte è quando e soprattutto non abbiamo un emulatore in 3ds so che si può giocare anche senza il 3ds su pokemon x e y il problema è che appunto non ne sono sicuro e ecco dove va nello nos zoomer o insomma emulatore del genere può funzionare non lo so quindi io aspetto magari notizie anzi se avete qualche news fatemelo sapere perché ecco mi farebbe molto piacere se magari avete sentito qualcosa se magari dov'è la bicicletta io non ho una bicicletta bicicletta eccola qua giusto l'avevo selezionata se magari voi sapete qualcosa che ecco a me è sfuggito oppure avete letto da qualche parte che la rom esce non mi magari ecco una cosa che che vi dico subito se avete un rom si buono un forum ecco non inizia da scrivere se ti iscrivi oppure se cose se ci spammi ti diamo la rom perché l'ho fatto una volta con le precedenti versioni tutti mi dicevano così e poi in realtà non facevano niente e allora ho detto guarda è meglio di no perché insomma non voglio rischiare questa intanto sarà una grande lotta di merda perché quello c'ha un rapidash e vedete io non ho un pokemon d'acqua perfetto e quindi ecco mi raccomando se sapete qualcosa a me farebbe molto piacere farci una una guida e presumo che anche a voi insomma faccia piacere vederla una cosa del genere allora vediamo pugno rapido sul rapidash e scintilla su ponida ha rotto fuoco uh bene perfetto è paralizzato quindi in teoria dovremmo abbatterlo velocemente perfetto quindi ecco fatemi sapere qualcosa se avete qualche indizio ecco a me farebbe molto piacere poi dopo se ne riparlerà anche un po' più avanti perché io non ho capito se è proprio stato rotto il day one e quindi ancora deve uscire la rom io penso di si perché mi sembra che doveva uscire intorno al 20 però ecco chi lo sa e quindi ecco ancora siamo tutti in alto mare e poi niente continueremo con la nostra platinum nazlook challenge e ci divertiremo un megby ok usiamo gli perché ho usato graffio non ne ho idea questo è turbo fuoco ma perché che senso ha turbo fuoco brutto colpo addirittura ok graffano sale a livello 23 uh un toge chi un toge p metronomo ora tipo usata terremoto o iperraggio wow tu 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 devo togliere rapidartigli che tanto non serve a niente questo che cos'era caffè baita ah si giusto qua davano il latte questo ci potrebbe essere utile allora mi sembra che ecco questa voleva combattere un cleferi al 25 usiamo il pugno rapido cosmo forza ah si aumentava le statistiche giusto perfetto e vai allora ciao una dozzina ne prenderemo boh un po' e via perché tanto ecco a noi ci fa comodo oh grazie 24 quindi e e quindi ecco mi aspetto veramente che che asca alla svelta questa rom perché mi piace mi sta piacendo molto come come gioco tanto lo sapete che qua non si può passare perché gli psyduck stanno bloccando il passaggio ora io volevo andare a affrontare questi altri allenatori mi rimane un un solo pokemon da da incontrare vedremo un po' ecco tra un po' ah ecco ecco l'ultimo per questo percorso un ponitap potrebbe essere utile usiamo gli pugno rapido pugno rapido di nuovo oh ca però non vaniglia oddio allora bravo sei forte pokeball pokeball via uno due tre via catturato perfetto abbiamo preso anche ponita che chiameremo eh vediamo un po' dove è il mouse eccolo eh spago boh così a random non esiste un filologico però noi lo chiameremo spago ok spago è inviato al box uuuh tu 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 pozione di nuovo su farina che è quello che è rimasto un po' fin dietro con i livelli quasi allora qui c'è la bicicletta lotta double farina e il nostro riles che ormai ovviamente si è voluto allora usiamo gli un pugno rapido su cleferi foglia magica non li becca tutti e due usiamo confusione su cleferi prima bisogna batterne uno ok perfetto uno e due no l'innamoramento uuuh perfetto è andato via usiamo gli ruota fuoco su pikachu e confusione su pikachu sbam sbam perfetto però sta guadagnando un botto di punti esperienza c'è questo lo strumento e poi possiamo proseguire guarda come è lucido il pelo dei miei pokemon si il pelo ok ruota fuoco tuono shock perfetto via anche elikid e farina sale a livello 23 perfetto eppini questo ci dà un botto di punti esperienza boom boom allora io volevo vedere un po' una cosa garofano ah bene sta quasi per salire di livello mi sembra che siamo al 32 non mi ricordo mica a che livello si evolve io non sono spastico con la bicicletta tra l'altro su pokemon x e y non ci saranno anche i pattini io voglio i pattini allora proseguiamo allora la squadra è un po' maciullata io quindi direi sul percorso 215 di affrontare quello mi sa che avrà mettiamo tonno perché anche tonno è quello che è a livello più basso siamo un po' sempre a caccia di tesori bene vieni un bronzer scelta meno azzeccata nel mondo usiamo gli farina ecco infatti sapevo che usava esclusiva oh mamma mia mamma mia mamma mia sembravo Mario continua a piovere usiamo gli scintilla è paralizzato questo ovviamente non viene paralizzato quando non si blocca grafono sarà a livello 24 toglieremo il condivido di esperienza perché ecco non si può oh Sheldon non lo so se tonno probabilmente sarà inutile andiamo un po' usiamo il parassi insieme questo ci può essere utile vai poi paralizzante perfetto la difesa ce l'ha aumentata al massimo vediamo il foglio magica vediamo un po' beh e invece brutto copia tolta anche abbastanza oh grande tattica di tonno vaniglia sale a livello 26 perfetto e quindi a questo punto io sarei per togliere lo strumento a garofano e a darlo a tonno non il latte ma il condivido di esperienza quindi io per questa parte vi saluto vi auguro una buona giornata come al solito vi dico votate commentate ed iscrivetevi parte un po' più corta rispetto alle altre ma era appunto per per far si che sapeste che mi sono già messo in moto per x e y quindi votate commentate iscrivetevi se sapete qualche news mi raccomando fatemela sapere io non aspetto altro un ciao da esci88 ciao ragazzi